Faccio la stessa domanda che ho fatto al mister Scott, è un risultato giusto secondo te o il pareggio sta più stretto al Chieti? Il pareggio sta più stretto al Chieti, dal mio punto di vista sì, perché siamo partiti molto bene nel primo tempo, soprattutto la prima mezz'ora. Abbiamo subito un rigore, non so se c'era perché ero appena uscito, però credo che ci sia stretto un po' a noi. E il miglior Chieti della stagione secondo te? Sotto il punto di vista dell'atteggiamento sicuramente, perché siamo entrati in campo decisi su ogni pallone, quindi credo proprio di sì. Sei partito da trequartista, poi avviso il secondo tempo hai avanzato di qualche merito il tuo raggio d'azione e qualche altro anche il gol. Ecco, ti trovi meglio in quella posizione o secondo te farei un raccordo tra centra e centra e centra con la posizione che ti è creato? Mi trovo bene in entrambe le posizioni, a dire la verità, poi ho fatto tanti anni, ho giocato un po' più avanti, quindi posso pure puntare l'uomo, quindi posso più divertire, un po' più da tre virgolette, però anche trequarti mi trovo molto bene. Avete ritrovato un po' di fiducia tra l'atteggiamento e l'atalesco e questa? Questa è la mia impressione? Sì, assolutamente, si, si vede pure negli allenamenti, siamo fiduciosi, tentiamo di più la giocata rispetto all'inizio, sono molto contento, devo dire la verità. Avete ritrovato anche gli applausi da parte dell'Angelino? Sì, molto importante, molto importante. Dopo di questo ci sarà una sfida dedicata, si va a Pineto contro una delle squadre candidata alla vittoria del campionato della Corazzata, quale sarà la pensazione che dovrà fare i piedi? Di attenzione o più l'atteggiamento spregiudicato e giocarselo vis a vis? Guarda, ogni partita si va presa, secondo me, allo stesso modo, con il mister la prepariamo bene tutta la settimana, ma l'atteggiamento deve essere quello di oggi, se giociamo con il Pinedo, se giociamo con la San Benete o con qualsiasi squadra, l'atteggiamento deve essere quello di oggi. C'è una dedica particolare? Come scusa? C'è una dedica particolare? Sì, guarda, ho dedicato ai miei familiari che erano in tribuna.